Il caldo in Sicilia non molla la presa. 15 in totale incendi divampati nelle scorse ore. Due ad Agrigento, uno a Caltanissetta, tre a Catania, uno ad Enna, tre a Messina, uno a Palermo, Ragusa e Siracusa e due a Trapani. Per oggi si attende un'altra giornata di fuoco. La protezione civile siciliana ha diramato l'allerta arancione su tutta l'isola. E tra una selsa al limone, una granita e una bella tuffa in mare, il caldo si combatte così. Si beve dalla fontanella. Buongiorno, perché c'è caldo, tanto caldo? Eh sì, nel frattempo ho provato a prendere la pillola della pressione. Con questo caldo? Sì, ma addosso. Come si combatte questo caldo? Ma io esco nelle ore, diciamo come si dice, le ore la mattina quando c'è bocci fresco. Poi alle 10 mi vediamo a casa, mi accosto tutte le persiane e me le so le bocci d'accello. E poi niente, faccio la giornata a casa. E i medici consigliano così. Quindi preferisco, ma addirittura mezzo una granita e poi me le sa. Grazie a tutti.